Pronto? Oh, Valerio! Ma chi parla? Oh, come chi parla? Mi riconosci? Oh, Alessandro, carissimo! Ma che vediamo a quest'ora di notte? No, niente, ho appena finito di leggere il tuo libro nuovo e devo dare un'impressione a caldo Ah, dimmi, dimmi, no, no, sono curioso Ti è piaciuto? No, guarda, l'ho trovato ineffabile, ossidionale e inossidabile allo stesso tempo Spettacolare, spettacolare Mi è piaciuto tutto? L'unico dubbio, infatti te lo volevo chiedere, sul titolo Cioè, sul titolo questo foto mosse di famiglie immobili che però non c'ha una consonanza poi nei racconti E vabbè, ma che c'entra? Che c'entra, Alessandro? Cioè, un titolo deve essere un indizio deve dare una traccia, una suggestione Eh, sì, sì, ho capito, ho capito però fino a un certo punto perché se ti vai, che ti posso dire al suo mercato pigli un pacco di cornflakes poi l'apri e ci trovi dentro un insaccato a forma di bara, per dire cioè, pigli una cosa e ci trovi un'altra Vabbè, ma che c'entra sul mercato? Questo è un gesto artistico è una cosa libera cioè, si vende l'immateriale Che discorsi sono? Ho capito che discorsi sono Allora ti dico, vai a fare una caccia dal tesoro d'estate, a mia marittima cioè, devi trovare un cappello da parroco e un libro che parla di foto mosse di famiglie immobili te te presenti col cappello da parroco e il tuo libro te squalificano e il trattore in palio lo vince la melita toniolo in topless per dirti, no? Vabbè, ma che c'entra, Alessandro? Ma mica te lo dice il dottore che devi partecipare a una caccia al tesoro, eh? Ma che discorsi sono? Me lo dice il dottore Allora ti dico c'è una malattia degenerativa rara il dottore mi dice muori a meno che non mangi un libro che parla di foto mosse delle famiglie immobili mangio il tuo e magari mi viene la sindrome di Brugada che è una sindrome congenita rara che praticamente è un arresto cardiaco improvviso senza un difetto proprio evidente senza avvisagli ce l'ha avuta il mio cognato purtroppo non ho la mia voglia di parlare di affari miei in ogni caso poi dico ti mangi tutto lì ti pia anche peggio magari ti pia una recrudescenza vabbè ma che c'entra Alessandro allora la medicina omeopatica ma che discorsi sono la medicina omeopatica vabbè sa normale un libro e il titolo e il contenuto è lo stesso se no vabbè ma che c'entra poi Valerio a me sto ogni cosa che dico vabbè ma che c'entra cioè tutte le volte dici sta cosa là mi sta dando sui nervi mi sta proprio flippando il cervello mi voglia fare gas lightning non lo so se lo ridici un'altra volta te lo giuro c'ho una finestra qua al quinto piano l'ambocco mi butto da sotto te lo giuro vabbè ma che c'entra